L'Aquila ci riprova e incassa consensi da altre città. Il capoluogo si ricandida come capitale della cultura 2026 assieme ad altre 25 città. A sostenerla per ora c'è anche Rieti con l'appoggio del sindaco Daniele Sinibaldi. Nel 2022 lo spuntò Procida ma l'Aquila fu comunque tra le finaliste, ora punta ad una più massiccia promozione per continuare il benfatto finora. Per il comune si tratta di una grande occasione di rilancio delle aree interne del territorio, mettendo vicino i due territori, l'Aquila e Rieti colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. I due comuni lavoreranno insieme al dossier per presentare la candidatura. Entro il 27 settembre il documento dovrà essere pronto. Sarà sottoposto ad una commissione composta da sette esperti nel campo dell'arte e della cultura. Il 15 dicembre saranno proclamate le dieci finaliste. Il 29 marzo la proclamazione finale. Prima ci saranno le adizioni delle città arrivate appunto in finale. Con l'Aquila se la batteranno altre città, tra questi ad esempio Potenza, Bernal, Dagnone, Lucera Gaeta, Treviso, Pantelleria o Nuoro. Ci siamo allargati alla città di Rieti che è il nostro partner ma coinvolgeremo le realtà delle aree interne, in particolar modo del centro Italia, per dare un'idea diversa dell'Appennino e per testimoniare anche come attraverso la cultura si possono rilanciare le aree che hanno vissuto una crisi profonda come quella del terremoto. La cultura serve a ricucire le comunità, serve a ricucire le anime, in questo caso serve a ricucire anche territori cugini che in fasi diverse hanno subito il sisma e da quell'esperienza vogliono ripartire.